cosa consiglia Penny oggi? Penny consiglia direttamente dalla Sicilia i panaretti mischiate in una ciotola la farina con lo strutto a pezzettini aggiungete poi lo zucchero la scorza degli agrumi e le bustine di vanillina miscelate l'acqua con il latte e aggiungetela al composto regolatevi voi con la quantità il risultato deve essere un impasto abbastanza elastico mettete poi a riposare per circa otto ore riprendete l'impasto e dividetelo in quattro create la base di un cestino e con la pasta rimanente create due filoncini due più grandi e due più piccoli intrecciate quelli più grandi all'inizio e con questi farete il manico del cestino arrotolate poi quelli più fini e questi serviranno per decorare la base del cestino spennellate con l'uovo sbattuto rischiato al latte e al centro del cestino mettete un uovo sodo fissatelo poi con delle striscioline più piccole di pasta spolverizzate di codette potete dare la pasta le forme che preferite campane niti conigli bambolini decorate però sempre con un uovo sodo e codette infornate 200 gradi per 25 minuti si devono dorare ed ecco pronti i nostri dolci pasquali siciliani